Allora, buongiorno a tutti voi, sono il gestore del canile di Saluzzo, che funziona attualmente come rifugio e come pensione, servendo il territorio saluzzese. I cani presenti in canile in questo momento sono veramente pochi, grazie a Dio, però vorrei sottolineare una cosa che è molto importante dal mio punto di vista, la microchipatura, l'identificazione degli animali. Il microchip è una cosa che è comunque prevista per legge, non facendola riempiamo i canili e non riusciamo a rintracciare molto spesso i proprietari. Quindi controllare il microchip da parte delle autorità preposte sarebbe bellissimo e servirebbe a non riempire i canili di cani. È l'unico sistema per risolvere il problema degli abbandoni e dei cani che si perdono sul territorio, ma soprattutto degli abbandoni, perché nonostante tutto c'è una buona parte di persone che non avendo microchipato il cane non si fa tanti scrupoli a lasciare il cane in giro.